Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Dondolindo Ruotolo, pagina di autobiografia Amo la verità Il mio più grande amore è quello della verità. Abborro dagli infingimenti, dalle epocrisie, dalle doppiezze, dalle slealtà. Posso dire innanzi a Dio che quello che mi cagiona un vero dolore all'anima è il constatare la mancanza di verità e di lealtà. Erro certo, posso orrare, posso scambiare una cosa per un'altra ma non sono capace di mentire, sapendo di mentire. Non ne ho il coraggio. Ho avuto sempre un grande amore per tutto quello che è eroismo di verità. Ho amato ed amo assai i martiri della Chiesa perché sono morti per Dio e per la verità. La devozione ai martiri in me è stata sempre grande per questo. Mi è piaciuto l'eroismo della verità dovunque l'ho trovata. Così mi entusiasmavo, per esempio, Cicerone, che aveva il coraggio di smascherare Catilina, mentre mi entusiasmava qualunque atto di eroica fierezza di animo. Di natura sono timido, ho paura di tutto, è un'eredità di famiglia, ma la verità e la lealtà mi hanno fatto diventare fiero nelle circostanze. Non so fingere una sottomissione se non la sento e se non la faccio per amore di Dio. La mia fierezza di animo l'ho dimostrata negli anni di lotta che ho subiti. Essa però non è ostinazione. Io amo naturalmente di umiliarmi e mi piace di obbedire, non di comandare. La verità è di Dio e Dio è verità. L'amore ha la verità, credo, che in me deriva dall'amore che porto a Dio sopra tutte le cose. Il solo nome di Dio mi fa esultare e mi intenerisce. Riguardo solo la sua gloria e per me non ho alcuna ispirazione di grandezza. Anzi, ho desiderato sempre di ecclissarmi, di nascondere il mio nome e fare da servo in qualche chiesa o in qualche convento. Per questo amo sempre l'ultimo posto, ne godo internamente e ringrazio Dio quando sono umiliato. Ho però una natura orgogliosa e risento la pena delle umiliazioni. Però mi piace di umiliarmi perché è verità la mia nullità. La profonda convinzione della mia nullità mi ha fatto sempre attribuire a Dio quel poco di bene che ho fatto. E confesso che non ne ho mai sentito soddisfazione. Cuore, volontà, spirito di iniziativa. Sono duro di cuore e me ne umilio assai. Non ho nessuna sensibilità naturale o, come si dice, non ho buon cuore. Non mi è quindi possibile di esercitare la carità che per solo amore di Dio. Il mio amore ha questo solo motivo. Io amo assai chi ama Dio, chi lavora per la sua gloria, chi fa il bene. Ne do una prova. Nell'ultima lotta, nella quale sono stato distrutto ed annientato, io sono stato tradito da una creatura che ho beneficata. Ebbene, siccome a essa lavorava, lavora per la gloria di Dio ed ha consumato il tradimento credendo di togliere di mezzo un inganno, io per questo sento di amarla e mi intenerisco tanto quando la incontro per via. Sono naturalmente pigro e niente più mi spaventa quanto l'attività. Nell'attività grande degli anni passati nel ministero sacerdotale, io operavo sempre con sacrificio. Avrei preferito celarmi, quindi mi costava un'agonia interiore il predicare, l'andare sugli ospedali, il formare le anime che dirigevo, eccetera. Se avessi seguito la mia inclinazione, sarei rimasto inattivo, magari assorto in una meditazione continua. Essendo stato sempre in ambienti ristretti e chiusi, non ho iniziative, e tanto meno ho spirito organizzatore e battagliero. Rimango impappinato come il pulcino nella stoppa, nelle cose più semplici, e se non avesse avuto una costante fiducia illimitata in Dio, io non avrei mai fatto nulla. Fino all'età di 26 anni circa, ero così impacciato che non sapevo neppure imbucare una lettera. Ho però desideri molto vasti ed ardenti. Li ho avuti sempre, ed ho sentito il bisogno di una vita più vasta, più piena di Dio. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. 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 www.radioromalibera.org.